Questa ha fatto la differenza, loro sono, quando noi eravamo attratti siamo state anche ingiocabili, loro sono state lì, sono state unite e hanno provato a ritirarsi su. Ci sono riuscite, è una partita, qualcuno vince, qualcuno perde. Questo sicuramente perché quando si è avanti bisogna essere cinici ma non bisogna dimenticarsi le cose importanti, non essere troppo frenetici nelle cose. È una squadra giovane, è una squadra che forse alcune si ritrovano in questa situazione e non ne hanno giocato tanto in queste partite. È esperienza, abbiamo un'altra partita a commentare.